Siamo qui per parlare del divisionismo ed in particolare della figura di Gaetano Previati che è stato un esponente importantissimo nell'ambito appunto del divisionismo italiano che come vedremo ha delle caratteristiche proprie. Se per tanti anni questo pittore è stato un po' dimenticato dalla critica, recentemente negli ultimi due o tre anni è stato protagonista di diverse mostre, alcune mostre monografiche ed altre mostre che raggruppavano i principali esponenti del divisionismo. Queste esposizioni si sono tenute due a Ferrara nel 2018 e nel 2020 e poi una grande esibizione nel 2020 a Milano che riguarda appunto il divisionismo in generale. La sua biografia è piuttosto interessante perché come vedremo questo pittore si muoverà in Europa, allaccerà relazioni con importanti artisti europei e sarà protagonista di questo movimento del divisionismo italiano. Gaetano Previati nasce a Ferrara dove frequenta la scuola tecnica. Non ama gli studi tecnici, lo capisce presto, si trasferisce nella scuola d'arte e viene indirizzato dai suoi docenti verso Firenze. Rimarrà poco a Firenze, si sposterà nel 1876 a Milano dove studierà proprio all'Accademia di Brera. Sarà un pittore anche molto prolifico grazie ai grandi contatti che stabilisce in questo contesto, soprattutto con Vittore e Alberto Grubisi che saranno figure di spicco nel mercato artistico internazionale. La sua produzione si articola intorno a opere pittoriche ma anche di illustrazione. Nel 1902 partecipa alla secessione viennese e questo gli dà modo poi di esporre un po' in tutta Europa, in particolare a Vienna, a Berlino e a Parigi. Nel 1905 si trasferisce a Lavagna dove trascorre la fine della sua vita, un fine vita piuttosto travagliato perché sarà colpito da diversi lutti, prima di tutto quello della moglie nel 1917 e del figlio. Questo gli causerà una grande prostrazione, tanto che nell'ultimo periodo della vita proprio non dipingerà più. Quest'opera che vediamo adesso è il Pozzetto per le fumatrici doppio, datato 1887. Questa è un'opera che possiamo ascrivere al periodo della scapigliatura che Previati vive appunto nei primi anni milanesi. La scapigliatura appunto era un gruppo letterario e poi anche artistico che possiamo anche dividere in due generazioni di artisti principali. I primi, con Tranquillo Cremona, Daniele Renzoni, avranno la caratteristica quella di sfumare molto le opere, renderle molto vibranti e i temi saranno quelli soprattutto sentimentali. È un movimento che si rifà anche alla cultura francese, sia dal punto di vista letterario che da quello pittorico. E vediamo che anche in questo bozzetto ci sono questi elementi perché la pittura è molto tremolante e grande importanza viene data al colore. Il tema, poi quello delle fumatrici doppio, ricorda un grande francese della Croix che trattava appunto temi legati all'orientalismo e che poi vedremo sarà anche fondamentale per quello che riguarderà la ricerca sul colore. Questa è l'opera definitiva, sicuramente un po' più spenta rispetto diciamo al bozzetto che conserva una certa freschezza e che ha maggiori riferimenti con quelle che sono le opere di Tranquillo Cremona che abbiamo prima nominato, che sarà appunto un esponente di spicco. Qui vediamo nell'Edera sia il tema sentimentale dei due amanti che anche questa pittura di tipo sfumato che lui addirittura realizzava con la mano sinistra, proprio perché fosse meno precisa, meno tecnica. L'opera successiva di Previati ha un tema letterario, Romeo e Giulietta. Si tratta di un grande dipinto, di un olio esutela, che ha quasi le caratteristiche di un pastello a cera, proprio per queste striature di colore che vediamo nel particolare del braccio. Qui notiamo subito un grande interesse per il colore, un colore che viene steso a pennellate quasi parallelele ed è forse in questo momento, perché siamo già nel 1889-91, che inizia il suo percorso verso quella che lui stesso definirà la spezzatura del colore, il colore diviso. Il colore diviso non era certo una novità in ambito europeo, perché Serra, con il suo neoimpressionismo, aveva proprio teorizzato e aveva proprio messo a punto questa tecnica che riguardava la divisione dei colori sulla tela piuttosto che la miscela sulla tavolozza. I colori puri venivano accostati e si predilegeva appunto l'accostamento dei colori complementari. Questo perché alla dovuta distanza lo spettatore potesse ricomporre le pennellate in una sintesi tonale più vibrante, quindi maggiormente luminosa. Con Serra diventa tutto scientifico, diventa tutto applicato all'estremo, ma l'intuizione dell'utilizzo dei colori puri messi vicini ai colori complementari era stata già di Delacroix. Gli impressionisti l'avevano utilizzata in parte e Serra invece ne farà proprio un metodo, una tecnica centrale nella sua produzione. Qui si tratta di un piccolo paesaggio che però è piuttosto esemplificativo appunto della tecnica che abbiamo menzionato e questa invece è un'opera sicuramente più importante, più nota di Serra, sono i Bagnanti e Dasnier. E qui vediamo anche delle caratteristiche del neoimpressionismo francese. Siamo negli anni 80 dell'Ottocento. Se si definisce il neoimpressionismo come una prosecuzione dell'impressionismo, in realtà le sue caratteristiche saranno piuttosto diverse perché la pittura non è più immediata ma diventa meticolosa, di lentissima elaborazione. E questa lenta elaborazione non può più avvenire en plein air, ma viene in studio, nell'atelier dell'artista. Le opere diventano grandi. il tema però rimane quello degli impressionisti perché come vedete si tratta di Bagnanti all'aperto, di una scena di vita cittadina, ma anche dal punto di vista formale abbiamo una differenza rispetto all'impressionismo. Le forme si semplificano e si geometrizzano. L'effetto generale non è più quello dell'immediatezza, ma è quasi quello del congelamento della visione. In quest'opera, si tratta di un paesaggio, notiamo proprio questo accostamento dei colori complementari. Si tratta di tocchi, piccoli tocchi di verde, sui quali ci sono tocchi di rosso, colore complementare. Tutto ciò per dare una maggiore luminosità all'immagine. Segue l'opera di Previati, che sicuramente guarda Serà. Si tratta di un'opera intitolata nel prato opace. Lo stesso artista non decide bene il titolo appunto del quadro. Il soggetto, come vediamo, è di ispirazione impressionista, ricorda molto Monet. Si tratta di una donna, di una borghese, con due bambini su di un prato all'aperto. La tecnica però è divisionista e già si comincia a leggere quella che sarà la sua cifra specifica, cioè quella pennellata lunga e filamentosa. La vediamo in due direzioni, in direzione orizzontale per quello che riguarda la metà più alta dell'opera, il cielo, e in direzione verticale per quello che riguarda l'erba del prato. Lo stesso Previati, che scriverà a lungo della gestazione delle proprie opere, ci dà, diciamo, un commento di quest'opera e lo definisce il mio primo tentativo di tecnica della spezzatura del colore verso un'intensità di luce. C'è una tendenza al giapponesismo e un sentimento di quiete e semplicità che giustificano il titolo pace. Anche quest'opera si richiama alla precedente, si tratta sempre di un paesaggio, un'opera un po' più tarda. Sono quelle colline liguri dove lui deciderà di trascorrere poi la fine della sua vita. E vediamo che, anche in base a quello che abbiamo letto delle parole dello stesso autore, la sua ricerca è una ricerca di tipo tecnico, però guidata da un interessamento verso l'emotività, verso il trasmettere degli stati d'animo, delle emozioni. Ma Previati non è l'unico protagonista del divisionismo italiano. Possiamo notare anche questi due piccoli tondi di Giuseppe Pellizza da Volpedo del 1901, che dovevano inizialmente far parte di un ciclo, il ciclo degli idilli, ma che lui interrompe perché Pellizza era solito iniziare tante opere insieme e poi la gestazione del quarto stato lo coinvolgerà al punto tale da interrompere questo progetto. Si tratta appunto di idilli, il primo idillio primaverile, chiamato anche Girotondo, che riguarda il tema dell'infanzia, poi successivamente l'idillio verde, dove viene rappresentato l'idillio amoroso della giovinezza. E in queste due opere vediamo come invece la pennellata divisa di pellizza sia realizzata a piccoli tocchi e sia anche concentrata nella resa cromatica degli effetti in controluce. Questa è l'opera che sicuramente rende Previati molto noto. Si tratta della maternità realizzata tra il 1890 e il 1891 che Previati espone nel 1891 nella prima triennale di Brera. Questa occasione sarà proprio il punto di partenza, la nascita del divisionismo italiano, perché come vedremo accanto a lui esporranno anche gli altri esponenti del divisionismo. Fu un'opera molto discussa e molto criticata, come spesso avviene. l'iconografia si tratta praticamente di una rappresentazione sacra, la Madonna che allatta il bambino, una Madonna del latte, soggetto medievale, con gli angeli intorno. L'iconografia, dicevo, è piuttosto tradizionale, ma l'effetto è del tutto nuovo, tanto che i critici che non ridiscono davanti a quest'opera la definiscono un insieme di fili di lana posti sulla tela. Questi fili di lana ovviamente sono le pennellate, filamentose, di cui parlavamo anche prima, e che in quest'opera notiamo insieme le dimensioni, larga a quattro metri, sono ancora più evidenti, proprio grazie a queste dimensioni. quest'opera sembra che dal punto di vista biografico sia stata ispirata alla nascita del figlio e vedete anche il titolo Maternità, anche in questo caso è un sentimento, è una realtà che riguarda l'animo umano, non solo il dato tecnico sta a cuore appreviati. Lo stesso tema viene proposto da un altro protagonista del divisionismo, Giovanni Segantini, anche se vediamo che la realizzazione è piuttosto diversa. Lui si occupa di due madri, come spesso farà. È una pittura, nelle corde di Segantini, che celebra la natura. La maternità è vista come un valore universale, riguarda sia l'uomo, quella donna e il bambino in braccio addormentato, che l'animale. Vediamo anche il vitellino appunto ai piedi della madre. Ma a differenza di Previati, Segantini non trascende mai il dato di realtà, per cui l'opera fu anche molto più apprezzata rispetto a quella di Previati. In questo caso il protagonista è la luce e la pennellata divisionista rende tangibile un po' la rozzezza dell'abito della donna e il mantello ispito dell'animale. Per questo aggancio appunto con il dato concreto, questa opera sarà infatti molto apprezzata dai critici. Come vedremo però, anche Giovanni Segantini realizzerà delle opere di stampo divisionista influenzate anche dal simbolismo, come avveniva appunto per Previati. Abbiamo questi due oli, l'amore alla fonte della vita sulla sinistra e l'angelo della vita, che trattano, come abbiamo visto, sia per Pellizza che per Previati, delle riflessioni sullo stato dell'umanità, sugli stati d'animo, sulle situazioni che l'umano si trova a vivere nel corso della propria esistenza. Un'altra opera esposta, sempre nel 1891, alla prima triennale di Brera, sarà l'alba di Morbelli. Qui, anche Morbelli lentamente aderirà al divisionismo, ma si tratta appunto di un divisionismo di stampo sociale, dove vengono messi in evidenza i temi del lavoro e la povertà di alcune categorie appunto di persone. Ritorniamo alla maternità di Previati e leggiamo anche le parole stesse dell'artista. Sono invischiato a rendere nella figura principale del quadro tutta l'intensità dell'amore materno e in un renderlo partecipo del movimento delle altre figure del quadro, perché ne risulti un tutto omogeneo. Quindi, l'importante è la rappresentazione dell'intensità di uno stato d'animo, di una condizione umana e contemporaneamente anche la resa del movimento. Soprattutto quest'ultimo aspetto sarà fonte di ispirazione per il futurismo italiano, in particolare per Boccioni, che sarà un grande stimatore di Previati. Vediamo qui due opere. Il primo, Nudo di spalle contro luce, si tratta di un ritratto della madre di Boccioni. Quindi ecco, anche qui ritorna il tema della maternità, che coinvolgerà Boccioni nelle prime opere, che sono realizzate, come si vede, con la tecnica della spezzatura del colore, anch'esse. Vediamo delle pennellate di colori puri che costituiscono degli effetti luminosi sull'incarnato della donna. E accanto vediamo un'altra opera, invece, Profumo di Luigi Russolo, altro esponente del futurismo. In questo caso, vedete che la pennellata vorticosa serve a creare un movimento, ma è il movimento dell'essenza del profumo che si sprigiona, alla ricerca quasi di una sinestesia nell'opera. Gli stati d'animo però interesseranno Boccioni, anche successivamente, con la serie appunto intitolata Stati d'animo. Le tre opere, i tre quadri, quelli che vanno, gli addi e quelli che restano. E qui ci si rende conto dell'influenza del divisionismo nel futurismo italiano e anche dell'utilizzo della direzione della pennellata con il significato di voler rappresentare un sentimento. Vediamo la pennellata ascendente nella prima opera, quelli che vanno, dove sicuramente c'è un'emozione, un entusiasmo per la partenza, la pennellata ondulata nell'opera centrale degli addi e la pennellata verticale, a cui corrisponde anche un colore freddo, perché anche il colore sarà ovviamente oggetto di riflessione, dell'ultima opera quelli che restano. Ci ricorda un po' anche lo studio di Kandinsky, che sarà anche successivo in realtà rispetto all'opera del futurista, che servirà proprio a stabilire una relazione quasi univoca tra la direzione della pennellata, della linea e l'impressione che il colore hanno appunto sulla visione dello spettatore per coinvolgerlo dal punto di vista emotivo e ottenere diversi effetti. Abbiamo menzionato un altro aspetto fondamentale nella produzione di Previati che quella dell'adesione anche al simbolismo, soprattutto per quello che riguarda la tematica. Qui abbiamo l'opera La danza delle ore, si tratta appunto di una composizione che si ispira a Ponchielli, a un'opera di Ponchielli, in cui la pittura si fa musica e cominciamo a vedere la rappresentazione del sole, che sarà quasi un pallino per tutti i divisionisti italiani. La luce diviene tema predominante da questo momento in poi nelle opere di Previati, che diventano anche di grandi dimensioni. Simbolismo perché? Perché il simbolismo si occupava di tematiche letterarie, di tematiche che avessero diciamo una lettura non immediata ma anche sofisticata, con riferimenti in questo caso per esempio letterari alla Divina Commedia. Si tratta di Paolo e Francesca in un'opera in cui il movimento è protagonista e in cui possiamo osservare il tentativo che fa Previati di fluidificare le forme, annullando quasi la divisione tra soggetto e sfondo. Un altro quadro interessante è l'Assunzione perché ci dà modo anche di esplorare un altro aspetto della produzione di Previati, che riguarderà appunto le tematiche religiose. In questo caso più che un tema religioso possiamo quasi definirlo una visione trascendente e quest'opera è stato oggetto anche di uno studio interessante perché è stato messo, è stata messa in luce la sinestesia che Previati cerca di raggiungere. Si tratta dell'Assunzione della Vergine dove originariamente gli angeli che vedete la sorreggono, la portano fino al cielo, dovevano avere in mano degli strumenti musicali. Il pittore cambia idea e trasforma la stessa Vergine in uno strumento musicale, assume quasi le sembianze di una grande lira proprio alla ricerca di di questo riferimento musicale nelle sue opere perché lui era convinto che la vibrazione del colore avesse assonanza con la vibrazione musicale e riteneva la musica la forma d'arte più alta. Un'altra opera invece, diversa dal punto di vista compositivo, è il Trafugamento del Corpo di Cristo del 1912. Qui abbiamo anche, diciamo, un episodio non proprio canonico. C'è da dire che lui aderia anche a Rosa Croce, a Parigi, per cui sicuramente il suo immaginario era stato colpito anche da immagini che poco avevano a che fare forse quella religione tradizionale. Qui l'opera è divisa in due, appaiono le tre croci e ritorna questo cielo dorato, che sarà un po' la cifra distintiva del Previati maturo. E qui vediamo un po' che accanto all'opera di pittore, Previati produrrà anche dei trattati che si occuperanno proprio di mettere a punto le regole per questa nuova tecnica divisionista. I principi del divisionismo è una delle opere e questo testo è corredato da immagini realizzate e schizzi realizzati dal pittore stesso, la cui data 1906 anticipa di quattro anni lo spirituale nell'arte di Kandinsky, che avrà più o meno lo stesso oggetto di studio, cioè quello che dicevamo prima, il fatto che alcune linee suggeriscono specifici stati d'animo, così come alcuni colori si riferiscono a particolari emozioni. L'insieme di linee e colore può trasmettere a chi osserva l'opera una sensazione specifica. E qui vediamo appunto degli esempi in cui vengono evidenziati i colori complementari, l'azzurro e l'arancio. Anche questo testo si occuperà sempre della tecnica della pittura. E adesso abbiamo una serie di opere anche piuttosto simili tra di loro, che come anticipavo prima, avranno come protagonista la luce. E queste appunto sono le opere di grandi formati. Questa è un'opera conservata presso la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e si intitola La creazione della luce, dove vediamo irradiarsi tutti questi raggi solari. E fino al 2013 presso la Galleria Nazionale di Roma era allestita una sala, chiamata proprio la Sala Priviati, dove veniva esposta quest'opera, insieme ad un altro quadro molto famoso e molto bello, che è il sole nascente di Pellizza da Volpedo. Dicevamo, quasi l'ossessione per il sole da parte dei divisionisti, perché il sole, la rappresentazione dell'astro per Antonomasia, dava modo di sperimentare gli effetti luminosi, come poterli riprodurre. E ritorniamo anche all'opera precedente. Se Priviati predilige una rappresentazione della luce con questo sfondo dorato, più o meno uniforme, qui Pellizza invece, l'opera, diciamo, la riproduzione non ci permette di coglierne tutti i singoli dettagli, ma Pellizza predilige una scomposizione. Se noi potessimo osservare da vicino quest'opera, vedremo che questa luce, questo sole nascente, in realtà è costituito da tutti i colori dell'iride, tutti i piccoli puntini messi l'uno vicino all'altro. E poi ecco, altre opere presenti in altre collezioni, sempre con tema il giorno e la luce. Qui c'è il giorno che sveglia la notte. Vedete come ricorre questo astro semplificato sullo sfondo, i raggi e personaggi che si quasi, diciamo, stagliano da questo sfondo uniforme e vengono coinvolti in questa visione, sempre un po' al limite dell'onirico. E abbiamo il trittico del giorno. Questo si trova a Milano, nella Camera di Commercio, dove appunto abbiamo tre opere. Il giorno, che è la prima opera sulla sinistra, il carro di Apollo, che è il carro del sole, e la notte con colori freddi sulla destra. Troviamo anche un'altra opera che ci dà modo all'eroica di soffermarci un po' su un altro interesse forte per Previati, che abbiamo prima accennato, che è quello della musica. Questa opera si intitola L'eroica ed è di nuovo un trittico, molto grande a livello di dimensioni. Allora Previati aveva avuto da Grubisili in carico di decorare un salotto appartenente alla villa di una dei suoi figli, che doveva essere appunto dedicato alla musica. Previati impiegherà molto tempo nella realizzazione di questa decorazione, che oggi troviamo al Vittoriale. E vedete anche qui, ovviamente siamo nel periodo storico in cui anche l'influenza di Wagner è fortissima, e anche sicuramente i suoi contatti con la secessione viennese giustificano questo interesse per la musica e per Wagner in particolare. Ma su questo trittico possiamo fare anche un'altra riflessione, cioè su quanto fossero rilevanti le cornici dei trittici e in generale delle opere di Previati, che sono più o meno tutte dello stesso artigiano, che era appunto Ettore Zaccari. Preveniente da Cesena, è trasferito anche egli a Milano e anche egli parte del team diciamo di Grubisì. Sarà Grubisì a incaricare appunto Zaccari di realizzare le cornici per molti degli artisti che esponevano presso le sue gallerie. C'è da dire che Grubisì aveva avuto l'esclusiva su Grubisì, nel 1911 istituisce proprio la società per la diffusione delle opere di Previati Grubisì e si occuperà in tutto e per tutto un po' della pubblicità dell'artista e in questo periodo commissiona delle cornici a Zaccari che potessero fare una sorta anche di restyling delle opere precedenti dell'artista. Si tratta di cornici piuttosto semplici, se confrontate con altre dello stesso periodo, che hanno un po' un gusto quasi quattrocentesco e che possono essere posti a cavallo tra Liberty e il Deco, in cui appunto le modanature si fanno geometriche e gli elementi decorativi essenziali e si tratta appunto di vere e proprie opere d'arte che valorizzano i quadri in cui sono esposte. Vedete, sono molto simili. Poi questa ricorrenza sempre per la tripartizione, per il trittico. Questa è un'opera intitolata La caduta degli angeli, molto simile anche alle opere che abbiamo visto precedentemente. Un altro quadro, un altro trittico diciamo, incorniciato da Zaccari, però forse più meditativo, è questa migrazione in Valpadana. Si tratta di una delle ultime opere. Vediamo gli alberi e ai piedi degli alberi questa fila di pecore che vanno verso la luce. Anche qui c'è un richiamo, un'altra opera di Pellizza da Volpedo, che aveva proprio come soggetto questo greggio di pecore che sfilava, quasi una meditazione sulla condizione umana. Di Giacomo Balla invece è quest'opera articolata, composta da più pannelli, che richiama un po' questa scansione molto in voga agli inizi del secondo decennio del 1900. E anche quest'opera, alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, era esposta qualche anno fa in confronto con le opere di Previati. Balla, grande vecchio dei futuristi, adotterà anche egli la pittura divisa. Vediamo nel particolare che si tratta di puntini, una pittura puntiforme, molto delicata. E poi concludiamo questa carrellata su Gaetano Previati presentando l'ultimo ciclo, a partire dal 1914 fino al 1916, che è un po' la data, diciamo 16-17, la data di fine della sua carriera, proprio prostrato non solo dall'età ma da questi lutti familiari di cui parlavamo all'inizio. Si tratta di quattro grandi tele che la Camera di Commercio di Milano aveva commissionato all'artista. Il tema è quello che riguarda le vie del commercio, le grandi arterie del commercio mondiale. Vediamo la prima opera, la Carovaniera del deserto, la seconda è il canale di Suez, il traforo delle Alpi e poi ne vedremo una quarta. Sicuramente ci colpisce questo verticalismo, un po' di stampo orientale, ma anche che strizza un po' l'occhio alla cartellonistica tipica della cultura visiva delle metropoli che stavano nascendo in questo periodo. I colori sono ridotti in questo caso, oltre a questa prevalenza dell'oro che era diventato ormai il tratto distintivo di Previati, abbiamo la presenza del bianco e dell'azzurro. Forse quella più interessante, la quarta tela che riguarda la ferrovia del Pacifico e qui abbiamo rappresentata l'estetica della macchina che sarà cara anche ai futuristi. Vedete con questi grandi tralicci che sostengono la ferrovia e il fumo che si condensa assumendo una dimensione solida e qui Previati sicuramente rimanda un po' a un predecessore importante, a William Turner che si era occupato di rappresentare le novità della rivoluzione industriale. Con pioggia, vapore e velocità aveva rappresentato anche una locomotiva sfrecciante in uno sfondo indefinito. Previati ha infatti saputo dialogare con le avanguardie europee ed è stato punto di riferimento per il futurismo, tutto questo mantenendo un legame stretto con le origini della pittura evocato dal fondo d'oro di tradizione bizantina.